Viaggiamo tra i bei paesaggi ed alti monti, sono i Pirenei orientali. Tra poco arriveremo a Bossost, un vecino ai confini con la Francia, in Val d'Aran, e subito siamo di fronte alla chiesa della purificazione o dell'assunta. Ci compare per primo il portale in sud e un portale in marmo. I piedriti sostengono tre ghiera, lievemente a punta, ornate alle estremità da un motivo a scacchiera di dama. Nell'architrave compare un motivo a girali, nel timpano il crismon, la sigla di Cristo. Ci giro intorno e mi compaiono le tre absi di colla centrale, più grande e più sporgente, e l'alto campanile a base quadrata. La chiesa risale al XII secolo. Continua il periplo e sono di fronte al portale nord, il più antico del precedente, e ugualmente in marmo. Le colonnine provviste di capitelli lisci, un motivo intrecciati, sostengono due ghiera a tutto sesto. Il motivo a scacchiera si ripete ben tre volte. Nel timpano Cristo è maestà, attorniato dai simboli dei quattro evangelisti, il sole e la luna. L'interno è un pianto basilicale a tre navate, che terminano con le tre absidi. Nella visita centrale è collocata una madonna col bambino, ma la cosa più interessante è che a destra della monofora si sono conservati degli affreschi. Nel registro superiore l'omaggio dei magi, nell'inferiore la disputa tra i dottori. Ecco la controfacciata che presenta alcuni arredi barocchi.